Valentina Santos, da due anni vive in Germania, francoforte, un'esperienza di vita e lavoro all'estero che tuttavia ha incrociato anche la pandemia. Come sta andando? Sì esatto, da finiti gli studi di magistrale in management e relazioni economiche internazionali ho avuto questa possibilità di svolgere uno stage presso la Camera di Commercio Italiana per la Germania a francoforte e il lavoro di supporto e promozione delle aziende italiane e tedesche per i rispettivi mercati ha iniziato a coinvolgermi molto e a piacermi. Pertanto mi sono così fermata a francoforte per questa esperienza lavorativa di cui ormai sono giunta al secondo anno e in pratica aiuto le aziende ad internazionalizzarsi. Faccio conoscere il Made in Italy italiano in Germania e il Made in Germany invece in Italia. È un'esperienza molto appagante perché mi permette di entrare in contatto con molte realtà aziendali attive in diversi settori e di ampliare soprattutto il network. Senza dimenticare che comunque svolgo anche il consigliere comunale per il comune di Gromo a cui tengo carica, a cui tengo particolarmente e che sono fiera di riuscire a portare avanti da remoto. Anche e soprattutto grazie ai nuovi sistemi di informazione. Purtroppo esatto, da un anno a questa parte siamo, è anche la Germania e quindi anche francoforte nel pieno del covid. In questo momento siamo nel secondo lockdown che dovrebbe finire il 7 di marzo e come in Italia è stato un anno purtroppo caratterizzato da diverse problematiche legate prima a una carenza di tipo economica, ovvero le tante aziende hanno dovuto chiudere o fermare la propria produzione, tante aziende sono andate in quella che si potrebbe indicare come la cassa integrazione in Italia ma fortunatamente nel primo lockdown che c'è stato tra marzo e maggio non abbiamo avuto dei sovraffollamenti in ospedale l'emergenza non era pressoché legata dal punto di vista sanitario ma da un punto di vista principalmente economico. Dall'altra parte invece adesso nel periodo in cui stiamo vivendo, quindi nel lockdown che è iniziato ahimè già da novembre dell'anno scorso stiamo invece vivendo una vera e propria emergenza sanitaria per cui dovremo ancora attendere insomma qualche settimana se non ancora qualche mese per vedere un abbassamento vero e proprio di quelli che sono i numeri e l'incidenza del coronavirus. Per il futuro vedo comunque di continuare ancora questo percorso presso la Camera di Commercio Italiana per la Germania ma mi auguro vivamente di poter anche ritornare a una situazione più tranquilla dal punto di vista soprattutto dei viaggi in quanto rimanere lontani da casa e dai propri familiari per così tanto tempo non è per niente facile. Fortunatamente grazie agli strumenti di oggi c'è sempre la possibilità di fare una videochiamata però spero presto di ritornare in Italia. Ma qual è il percorso che di fatto ha consentito di arrivare a questa interessante realtà? Anzitutto uno degli aspetti principali che mi hanno permesso di entrare in contatto con la Camera di Commercio Italiana per la Germania è stata la diretta comunicazione con la mia università. Ho frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia e da tempo cercavo uno stage che potesse mettere a punto e mettere alla prova le mie conoscenze acquisite durante il percorso universitario. Grazie appunto al tutor sono entrata in contatto con questa realtà nella Camera di Commercio per cui sono riuscita appunto ad ottenere un posto come tirocinante. Tirocinio che ho svolto con molto piacere in cui ho potuto mettere alla prova le mie conoscenze ma soprattutto entrare in contatto con una realtà a me pressoché sconosciuta all'inizio poiché avevo soltanto questa concezione delle aziende che si spostano verso l'estero e che utilizzano degli strumenti piuttosto che dei servizi ma non mi immaginavo che ci fosse una Camera di Commercio attiva proprio a servizio di queste aziende e che potesse offrire dei servizi su misura e ad hoc per quello che è la necessità di internazionalizzazione. Quindi appunto questi tre mesi mi sono stati molto utili per conoscere questa realtà per entrare in contatto anche con un team molto affiatato, un team molto unito e mi ha permesso anche di sviluppare nuovi interessi soprattutto in quello sul business development per le aziende e anche del digital marketing. Successivamente da appunto maggio 2019 ho avuto la possibilità di fermarmi, di fermarmi a Francoforte di proseguire questa avventura lavorativa diventando supporto agli eventi, all'organizzazione degli eventi e anche delle manifestazioni che vengano organizzate prima fisiche, adesso invece online e digitali che anche al fianco del management di ITCAM, quindi nella posizione di assistente al segretario generale. Due compiti per me molto importanti che hanno sicuramente molto influito sulla mia percorso professionale. Devo dire che già in questi due anni sono cresciuta molto, ho partecipato a diversi progetti sia in Italia che in Germania. Uno fra tutti è stato il forum economico che si è tenuto a Venezia nel 2019 durante i famosi giorni dell'alluvione terribile che c'è stata a Venezia a novembre e io ero proprio lì con il mio team per portare avanti questo forum economico e questi eventi e manifestazioni mi hanno anche permesso di entrare in contatto con tutta la community aziendale attiva tra Italia e Germania. Insomma, una possibilità in più per ampliare le proprie conoscenze. Sì, anche se abito in una città molto internazionale come Francoforte, appunto sede delle principali aziende multinazionali e anche di sede di poli finanziari, ho avuto la possibilità di entrare proprio con mano nella cultura e quelli che si possono magari definire stereotipi della gente tedesca e sicuramente non è la persona rigida e chiusa che magari può trasparire all'interno dell'Italia ma invece sono delle persone sì, molto attente, molto efficienti, scrupolose ma allo stesso tempo vedono l'Italia e noi italiani un po' come i nostri vicini di casa e tendono sempre ad aiutarci o comunque supportarci. Dei chiari esempi sono state le ultime collaborazioni che si sono avute sul piano europeo in cui la Germania, che è stata alla presidenza del Consiglio Direttivo dell'Unione Europea ha più volte ribadito questa fratellanza nei confronti dell'Italia di voler tenere appunto saldo quelli che sono gli aspetti diciamo più interessanti per il mercato sia tedesco ed italiano. Non dimentichiamo anche che da un punto di vista economico l'Italia è uno dei principali paesi fornitori della Germania così come la Germania è uno dei principali paesi fornitori dell'Italia c'è un interscambio commerciale che si aggira al 2019 sui 130 miliardi di euro quindi abbiamo comunque dei forti interessi sia culturali per cucinanza ma anche economici. Abbiamo già detto che ovviamente ci sono difficoltà legate alla mobilità ma attualmente qual è il quadro? Attualmente in Germania si può entrare e uscire soltanto con motivi più che validi per quanto riguarda l'uscire dalla Germania io in quanto cittadina italiana mi posso sempre recare in Italia quindi rientrare con un treno o volo o auto che ho a disposizione non è tuttavia così semplice in quanto ovviamente alcune tratte sono state ridotte, chiuse o comunque per esempio io utilizzavo molto la tratta Francoforte Bergamo con l'aereo questa è stata completamente sospesa fino alla fine del lockdown quindi fino a metà fine marzo. Per quanto riguarda quindi gli italiani che rientrano in Germania non ci sono particolari diciamo restrizioni. È più difficile invece entrare in Germania ovviamente esistono anche qui paesi considerati a rischio l'Italia per ora per la Germania non fa parte di questa categoria ma comunque per entrare bisogna avere delle comprovate necessità che riguardano famiglia, salute oppure lavoro è assolutamente per ora ancora vietato entrare per motivi di turismo mentre il transito è sempre consentito. Per quanto riguarda invece più nello specifico come viene appunto combattuto il coronavirus in Germania devo dire che è stato seguito un po' l'esempio dell'Italia data appunto anche la purtroppo presenza di casi di coronavirus prima che ci fossero poi in Germania ad oggi bisogna uscire di casa con le mascherine, mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 non si è obbligati a portarle mentre si passeggia ma bisogna comunque portarle in zone affollate all'aperto ad intenderci in un parco piuttosto che in una zona particolarmente frequentata abbiamo anche qui il coprifuoco che va dalle 10 fino alle 6 di mattina e non possiamo spostarci a più di 15 km dalla propria residenza anche se questo vincolo non è del tutto definito perché comunque molte persone si spostano anche per il lavoro e superano i 15 km anche se molte famiglie o comunque molte persone prediligono ovviamente lo smart working in questo periodo per quanto invece riguarda i casi su scala nazionale siamo a circa 6.000 casi di coronavirus e l'incidenza si sta abbassando sempre di più il governo tedesco vuole arrivare a una soglia che sia più bassa di 50 sull'indicenza e stanno ovviamente monitorando tutti i giorni quello che è l'andamento dei casi l'hanno iniziato anche in Germania le vaccinazioni il programma dei vaccini e ad oggi hanno vaccinato circa 5 milioni di persone anche qui come in Italia c'è una divisione per priorità che va da altissima priorità a priorità un pochino più bassa e sono comunque in riferimento alle fasce di persone protette quindi o personale addetto alla sicurezza della città piuttosto che i medici, infermieri, insegnanti oppure persone che soffrono che hanno appunto necessità di doversi curare oltre al coronavirus hanno anche altre purtroppo malattie e quindi possono appunto ricevere il vaccino questa campagna vaccini continuerà sicuramente per tutto il 2021 e non si sa ancora di preciso quando invece si abbasserà il grado di priorità questo verrà ovviamente poi comunicato o dal RKI Institut che è il Robert Koch Institut istituto che la Germania segue per tracciare i casi del coronavirus che magari anche in Italia si sarà sentito così come anche ovviamente il Ministero di Sanità Pubblica dovrà decidere poi quali saranno i prossimi step Un ultimo pensiero per chiudere? Un ultimo pensiero riguarda sicuramente la mia valle e il mio paese non vedo l'ora appunto di ritornare nel mio piccolo paese in mezzo alle montagne dove praticamente tutto è iniziato Grazie per la visione! Grazie per la visione!